Musica Bentrovati a voi tutti ad un nuovo appuntamento con la voce delle istituzioni nel territorio. Quest'oggi ci troviamo presso l'ente provincia dove incontriamo la consigliera di parità Flavia Monego, che saluto e ringrazio. Bentrovata. Bentrovata e grazie per avermi dato questa opportunità. Grazie a lei per il tempo che ci dedica soprattutto perché sappiamo che la tematica della parità di genere è un qualche cosa di cui bisogna parlare, bisogna parlare spesso soprattutto per cercare di progredire in questo settore. Allora facciamo un po' di ordine, partiamo però innanzitutto dal suo ruolo istituzionale. Che cosa rappresenta, che cosa fa infatti la consigliera di parità? Allora la consigliera di parità è una figura istituita dalla legge, è nominata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e è designata dal Presidente della provincia, in questo caso appunto Belluno. Quali sono i suoi compiti? Io fra l'altro ci tengo a dirlo, sono stata nominata a ottobre del 2020, quindi sono a quasi due anni dal mandato e i compiti della consigliera di parità prevalentemente sono quelli di occuparsi di discriminazioni e molestie nei luoghi di lavoro. Ma non solo, i compiti della consigliera di parità sono molteplici. La consigliera di parità deve interfacciarsi con gli enti del territorio per una sensibilizzazione sul tema delle pari opportunità, quindi capire se ci sono le commissioni pari opportunità. In provincia di Belluno ce ne sono solo tre, c'è Belluno, Feltre e Ponte nelle Alpi. Quindi capire se non c'è la possibilità di avere la commissione pari opportunità, se ci sono gli assessorati, i referati con la delega alle pari opportunità, o quantomeno che ci siano dei consiglieri o delle consigliere che hanno la delega alle pari opportunità. Infatti sono comunque poche, se possiamo dire così, le commissioni operative in provincia. Insomma, solo tre su 61 comuni. Sì, fra l'altro non tutti i comuni hanno un delegato alle pari opportunità e uno dei prossimi progetti sarà proprio quello di occuparmi, di confrontarmi con gli enti del territorio, è che comunque il progetto richiede molto tempo perché il territorio del Bellunese è molto esteso, ma di confrontarmi con le amministrazioni per capire dove non c'è il consigliere o la consigliera che ha la delega alle pari opportunità, capire se c'è la volontà di nominarla. Altro compito della consigliera è di cercare di fare delle formazioni a riguardo proprio sulla parità di genere contro le discriminazioni e di collaborare con, perché alla consigliera di parità si possono rivolgere uomini e donne, la consigliera presta la sua assistenza in modo totalmente gratuito, ma alla consigliera si possono rivolgere anche le associazioni, non solo i sindacati, ma anche le associazioni di categoria, gli imprenditori, gli enti e le associazioni. Ecco, adesso arriveremo anche a spiegare che tipo di interlocuzioni, che rapporti già ci sono, però prima di questo dal suo osservatorio privilegiato, quindi Monego, che cosa possiamo dire sul tema della parità di genere in riferimento al contesto territoriale bellunese? Io direi che la parità di genere a livello territoriale non si discosta dai dati del nazionale, perché in linea di massima c'è tanto lavoro da fare non solo sul territorio di Belluno, ma a livello nazionale. Chiaramente io mi occupo di Belluno, quindi parlo di Belluno. Per quanto riguarda la formazione sulla parità di genere è estremamente importante lavorare in quella direzione. Io ho lavorato con i tre sindacati principali sul territorio, CGL e Cisle Will. Ancora nel 2021 abbiamo sottoscritto un protocollo dove impegnavo la parte sindacale a fare formazione alle RSU aziendali. E infatti l'anno scorso, in collaborazione con i sindacati, abbiamo fatto un ciclo di quattro seminari, proprio dedicati, con relatori e relatrici su queste tematiche, dedicati proprio alle discriminazioni e alle moleste sui luoghi di lavoro. Quindi formazione diretta e sensibilizzazione diretta ai rappresentanti sindacali, in modo tale da formarli all'interno di luoghi di lavoro, per cercare di fare in modo che siano in grado di fornire gli strumenti e individuare anche queste tematiche. Perché tante volte sono molto velate e quindi sono di difficile individuazione. Quindi questi percorsi sono stati fatti proprio per questo motivo. E poi di recente invece un'altra iniziativa. Certamente, alla quale ci tengo molto, anche a specificarlo, perché la consigliera di parità non lavora solo chiaramente in collaborazione col sindacato, ma anche con le associazioni datoriali, con le associazioni di categoria, quindi con gli imprenditori. E il percorso che abbiamo fatto, che è durato alcuni mesi, ha portato a un evento che abbiamo fatto lo scorso 22 maggio, dove c'erano diversi relatori e abbiamo trattato proprio la parità di genere, l'argomento della parità di genere. Quindi l'incontro che è stato fatto con le parti datoriali si è parlato tanto dell'inclusione delle donne nel mondo del lavoro. Oltre a questo aspetto che lei ha sottolineato, che cosa è emerso inoltre? Ma è emerso che comunque in qualche modo c'è una discriminazione per le donne, perché è emerso anche dalle ricerche che sono state fatte, che ci sono moltissime donne laureate, che fra l'altro da recenti ricerche è emerso che le donne impiegano molto meno tempo rispetto agli uomini a laurearsi. Ma nel privato, nei ruoli apicali, ci sono prevalentemente maschi e quindi questa è una discriminazione e anche è emersa una netta discriminazione salariale e quindi bisogna assolutamente lavorare in questa direzione. Io dal canto mio comunque, anche dei casi che ho trattato ultimamente, mi sono occupata proprio di diversi casi dove c'era la necessità di conciliare il tema proprio della famiglia con il lavoro. Certo. Però devo dire che nell'ultimo periodo anche gli imprenditori, che di solito appunto quando il lavoratore o la lavoratrice si rivolgono a me per cercare appunto di trovare una soluzione al problema che hanno, io convoco un tavolo di confronto con il lavoratore e la lavoratrice, con la parte sindacale se il lavoratore ritiene opportuno che ci sia e il datore di lavoro. Io devo dire che ultimamente i datori di lavoro si sono rivelati molto più sensibili rispetto a qualche tempo fa e cercano sempre di trovare comunque una soluzione per cercare di risolvere la questione, quindi di conciliare il lavoro con la famiglia, con le problematiche della famiglia e della lavoratrice. E questo fa parte ovviamente anche del grande impegno sul fronte della responsabilità sociale di impresa che comunque è un qualche cosa che sempre più caratterizza anche le realtà del giorno d'oggi. Il prossimo passaggio sarà quello di un ulteriore percorso che vuole affinare con proprio le associazioni di categoria. Beh, certamente perché questo primo evento che abbiamo fatto lo abbiamo fatto proprio in prospettiva di un evento che faremo sicuramente molto più tecnico che riguarderà proprio la certificazione di parità di genere e che sarà rivolto ovviamente agli imprenditori per far capire quali saranno le agevolazioni che avranno le aziende che saranno certificate, che ce ne sono parecchi e quindi faremo un convegno dedicato proprio a questo argomento. Quindi un lavoro che non si esaurisce mai come anche ovviamente il tema dell'attenzione che su questo fronte deve continuare ad essere costante. Senta Monego, lei ereduce mi raccontava anche di un confronto con una studentessa proprio perché anche le giovani donne che si vogliono avvicinare ancor più a questa realtà o che vogliono affinare il proprio percorso di studi si possono rivolgere a lei? Sì, certamente perché questa studentessa si è rivolta a me per fare un'intervista perché la sua laurea sarà proprio rivolta agli enti pubblici quindi lei voleva sapere da me qual è il mio ruolo nei confronti degli enti pubblici. Gli enti pubblici devono comunque produrre un piano di azione positive triennale che riguarda tutti i dati del personale quindi sia a livello di genere e anche salariale e lei appunto era interessata a fare questa intervista con me proprio per questa motivazione perché nel pubblico è molto più facile controllare se c'è disparità di genere. Fra l'altro lo dico perché oggi mi ha chiesto appunto che dati ho sulla parità di genere a livello dirigenziale in contraposizione a quello che ho appena detto del privato sui ruoli di dirigenti all'interno degli enti pubblici e io ho proprio detto che fra l'altro qui in provincia siamo un'eccellenza tutto sommato perché su sei dirigenti cinque sono donne e uno uovo. Ecco giusto per fare un esempio virtuoso. Senta Monego parlando comunque di formazione ci sono anche delle interlocuzioni con il mondo della scuola in generale? Bisogna partire da giovani no? Un lavoro proprio questo la sensibilizzazione nei confronti dei giovani. Assolutamente sì infatti la formazione dovrebbe essere fatta soprattutto nelle scuole perché sensibilizzare sulla tematica delle parità di genere è una formazione poi di questi studenti e studentesse poi anche nel mondo del lavoro. Quindi proprio questa mattina mi è capitato di parlare con una dirigente di una scuola che è una scuola frequentata prevalentemente da maschi, anzi solo da maschi. e c'è solo una ragazza che frequenta questa scuola perché è una scuola che riguarda la meccanica e la carrozzeria. Ancora un settore prettamente forse più maschile. Però non è detto che le donne non siano interessate. Questo è un altro tema su cui effettivamente bisognerebbe dare la possibilità e quindi impegnarci a dare la possibilità anche alle ragazze di scegliere un tipo di formazione a cui sono effettivamente interessate. Mi diceva che c'era questa ragazza che ha frequentato l'anno scolastico che era motivatissima, che è stata molto brava e adesso sta facendo uno stage presso una carrozzeria qua in zona dove sono molto contenti. Però bisogna dare la possibilità, quindi prima quando parlavo di servizi e opportunità bisognerebbe proprio dare l'opportunità a questi studenti e queste studentesse di raggiungere magari le scuole, anche se sono distante. Io mi sono occupata l'anno scorso del convitto femminile dell'Istituto Agrario perché non esisteva. C'erano tante iscrizioni comunque femminile e le ragazze che venivano da fuori provincia o da fuori regione erano costrette ad alloggiare su bed and breakfast o su case private. Quindi ragazze di 14 anni devono comunque, è preferibile che siano comunque accolte in una struttura ricettiva della scuola e poi comunque devono obbligatoriamente avere gli stessi diritti che hanno i maschi. Quindi Monego abbiamo capito, insomma le attività sul fronte della parità di genere insomma non si esauriscono mai. Adesso ci ha parlato della scuola, prima abbiamo parlato delle associazioni datoriali. Si rinnova comunque questo percorso anche con le organizzazioni sindacali con nuove progettualità. Sì, assolutamente perché l'anno scorso alla fine del ciclo di seminari è stato somministrato un questionario dove i partecipanti hanno espresso la volontà di continuare su questa tematica perché trovano che sia un argomento molto interessante e la vogliono approfondire. Quindi adesso con i sindacati ci ritroveremo e progetteremo un altro ciclo di incontri. Bene, quindi noi le auguriamo Monego buon lavoro, naturalmente torneremo ancora ad incontrarci perché continuiamo quindi a ragionare su questi temi nella speranza appunto che sempre più sia una realtà apportata diciamo delle donne, ecco che non ci siano queste differenze. Io me lo auguro e vi ringrazio per l'opportunità che mi avete dato oggi. E a tutti quanti voi buona continuazione d'ascolto, arrivederci! Grazie! 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 Grazie!